Stoner prova a bucare un'altra volta, Andrea Lodizioso, prime fasi concitati, concitati della corsa di Inghilterra con Orghe Lorenzo che ha preso un bagaggio di 4 decimi sugli seguitori al passaggio davanti alla prima fotocellula. Bellissimo il via di Lodizioso, molto deciso e molto sicuro nonostante possano i primi chilometri sul bagnato, va fortissimo e sta già arrivando addosso a Orghe Lorenzo. Davanti anche Stoner a Lorenzo, in questo momento evidentemente lo spagnolo è riuscito un po' troppo piano da quel cordone e i due piloti della Honda lo hanno sopravvastato, non direi che è questione di potenza, di motore, perché in queste condizioni le ruote posteriori svittono, quindi le potenze devono essere tagliate di non poco per cercare di mantenere la ruota posteriore in contatto con Terri. In realtà per un'immagine di servizio ho visto un gran fasi concitato.